Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo delle ultime letture del periodo da quando ci siamo lasciati l'ultima volta con un video books. Non ho tantissimi libri, come potete vedere, non sono tanti, ma è perché di due vi ho già parlato in un video separato, nello specifico di Vanni Santoni con La Senza Profonda e di La Notti Blu di Chiara Marchelli, e ve lo linko da qualche parte, domunque sia. Partiamo subito con una lettura deludente, che è una graphic novel, The French Milk, di Lucy Kisley, non so come si pronunci. Comunque, questo qua. Questa copertina mi praticamente perseguitava da anni su Tumblr, ogni volta che la vedevo pensavo, oh no, devo leggere quel libro, e non lo trovavo mai da nessuna parte. Poi, recentemente, ho scoperto la fumetteria definitiva a Londra, che forse mi piace di più di Forbidden Planet, senza il forse, perché ha molte cose, beh, oltre a graphic novel che conoscono tutti, insomma, ha molte cose di nicchia, e ha anche tutta una sezione per le scenes, quindi pubblicazioni indipendenti. È molto bella, si chiama Gosh ed è a Soho, quindi se andate a Londra probabilmente ci passerete vicino senza saperlo. Quindi l'ho visto lì e ho pensato, no, devo averlo. La storia praticamente è autobiografica. La scrittrice, Lucy, che si vede qui dietro, quando ha tipo, bo, 23 anni, va per un mese a Parigi con sua mamma. Quindi fanno questa vacanza dove affittano un appartamento e girano Parigi in lungo e in largo. E questo romanzo è così il racconto di questa vacanza. Lucy è in un periodo particolare della sua vita perché sta finendo l'università, quindi è piena di dubbi sul suo futuro, su cosa farà, su come sarà. Le manca il suo ragazzo, che ovviamente è in America, e vorrebbe riuscire appunto a fare la fumettista da grande. E il French Milk del titolo è il latte intero, fresco, che lei compra e che sostiene essere mille volte più buono del latte che hanno in America. Allora, perché è deludente? Perché non c'è grande sostanza in un certo senso. Se anche solo vi capita di vederlo in libreria, non so se sia tradotto, cercherò e vi faccio sapere sotto. In pratica è una serie di liste. Voi immaginate di andare in vacanza e di ogni giorno buttare giù sul vostro diario. Oggi ho mangiato croissant per colazione, poi siamo andati al Louvre e poi per cene ho mangiato, non lo so, del pesce. Ecco, avete scritto anche voi French Milk. Perché a parte qualche sporadica riflessione o qualche momento così, un po' più, non voglio dire filosofico, però, in cui lei si interroga su appunto quello che sarà il suo futuro e si fa anche domande in generale su cosa voglia dire, vivere una vita dove l'arte è al centro di tutto, stringi stringi in realtà non c'è niente, è veramente una lista, una lista di ho fatto questo e ho visto quell'altro e siamo andati qui e mi manca il mio ragazzo e oggi non stavo tanto bene, cose di questo genere. E quindi mi è dispiaciuto perché in potenza poteva essere molto buono, nella realtà dei fatti, non so. Ecco, io se dovesse darvi un consiglio vi direi leggete altro. Se volete leggere un buon memoir in forma di graphic novel, buttatevi su sulla Bechdel con Fun Home, perché quello veramente merita. Quindi, chiuso la parentesi, successivamente ve li avevo già mostrati questi due libri in un book haul e vi sto parlando di Cake Tempest. Ho letto sia il romanzo The Bricks Have Built The Houses che in italiano dovrebbe uscire, o è già uscito, comunque sotto vi scrivo, non mi ricordo, né il titolo, né la traduttrice, chiedovenia, e la versione, diciamo, con gli stessi personaggi che compaiono qua, però sotto forma di lungo poema, Let Them Eat Chaos, che ho visto anche dal vivo. Questa sono andata appunto al concerto, non saprei come definirlo, che ha tenuto qui a Londra la Brickson Academy, ed è, lei dal vivo è una cosa, boh, è una bomba. Partiamo comunque dal romanzo, perché i personaggi sono gli stessi. Dunque, qui ci sono principalmente tre personaggi. Becky, che è una ragazza che ha studiato danza, e vorrebbe, danza la contemporanea, e vorrebbe fare appunto la ballerina, ma non riesce ad avere abbastanza ingaggi, e quindi si trova ad aiutare nel caffè degli zii, che l'hanno praticamente cresciuta, per vari motivi che vengono spiegati, e ad avere anche questa sua attività un po' segreta di massaggiatrice. Proprio perché lei ha bisogno di mettere da parte soldi per poter inseguire il sogno di fare la ballerina. Un altro personaggio che c'è è Pete. Pete è un ragazzo un po' scapestrato, nel senso che è intelligente, ha una laurea in scienze diplomatiche, direi, per le azioni internazionali, però la verità è che non trova un lavoro, e quando lo trova non si impegna neanche più di tanto per tenerselo, quindi è sempre senza soldi, e si ritrova ad andare, a tornare a vivere a casa con suo papà, che è divorziato, perché non ha altro modo di andare avanti. E il terzo personaggio è Harry. Harry è la sorella di Pete, ed è una ragazza un po' particolare, nel senso che ufficialmente lei lavora nelle risorse umane, e in realtà spaccia droga. Ha pezzi grossi, che si possono trovare in una città come Londra, quindi persone che lavorano nelle grandi banche, in finanza, o a livello molto alto nella produzione di media vari. Tutte queste vite e le vite di persone intorno a loro si intrecciano nella Londra dei giorni nostri, e portano a galla una società che è basata su valori che ormai non esistono più, dove l'importante è apparire, ma se poi nella sostanza fai schifo non importa, eccetera, eccetera. Questo romanzo, se avete visto su Goodreads, gli ho dato tre stelle. Non sono una che sta molto attenta, in realtà, alle stelle, perché secondo me è tutto molto vago, nel senso che tre non è necessariamente un brutto voto, tre su cinque, vuol dire anche semplicemente nella media. E non penso che questo sia un romanzo nella media, penso che Kate Tempest sia veramente molto brava a scrivere, molto brava ad avere una prosa musicale, probabilmente proprio perché scrive poesie e scrive musica. Però, ad un certo punto, secondo me, lei si perde in questo romanzo, e tutte le fila del racconto vanno un po' a sfilacciarsi invece che a chiudere un ipotetico cerchio. Quindi mi è dispiaciuto, perché si entra veramente nelle vite di queste persone, si conosce veramente tanto di loro, si impara a sentire la loro voce e a immaginarsene in giro per Londra. Però, appunto, il finale mi ha lasciato un po' un po' delusa, un po' in sospeso. Quindi, non lo so. Secondo me è comunque il suo primo romanzo, quindi è un'ottima prima prova, però forse mi sarei aspettata qualcosa di più, perché in effetti poi ho letto, come vi dicevo, Let the Meet Chaos, che è questo unico lungo poema, e l'album omonimo, che potete ascoltare anche su Spotify, credo, è esattamente questo. Cioè, se voi ascoltate le canzoni e seguite sul libro, lo potete fare, insomma. E di nuovo, anche qui incontriamo varie persone, fra cui Becky, Harry e Pete, varie persone che si trovano tutte a Londra e in questo momento, alle 4 e 18 di notte, sono ovviamente in vari punti diversi della loro vita e del loro percorso, nel mentre, Kate Tempest fa un'analisi di quella che è la nostra società odierna. Ci sono versi che ti prendono e ti distruggono la faccia, non so come dire, ti prendono a sberle, ti fanno svegliare. E' stato paragonato anche a The Wasteland, nel senso che, chiaramente potete capire, no, le tematiche, la società contemporanea, Londra come città, che qua viene definita una città lost, una città perduta. E' bellissimo, io non so come altro dire. Se avete paura a leggere poesia, pensate che sia difficile da comprendere buttatevi su questo, perché non è quel tipo di poesia che vi lascia persi, vi fa pensare, ok, c'è sicuramente qualcosa che non sto capendo, c'è qualche riferimento che però io non colgo. Andate sul sicuro e vedrete che sarete soddisfatti da Kate Tempest. Adesso basta. Passiamo però a un altro romanzo che mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, e non è solo perché ho un problema mentale io con Trieste, ma è perché questo romanzo è un qualcosa di spettacolare. E sto parlando appunto di Trieste, un romanzo documentario di questa autrice di cui non pronuncerò il nome per non umiliarmi da sola. e questo romanzo è fantastico. Io ho aspettato anni perché non so se di nuovo sia un problema mentale mio, ma ci sono dei romanzi che io voglio comprare in libreria. Magari sono difficilissimi a trovare pur essendo in catalogo, pur essendo relativamente nuovi, però non mi va di comprarli online, cioè voglio avere quell'esperienza di entrare in libreria, vederlo, prenderlo e comprarlo. E questo non lo trovavo mai. Mai, mai. Da nessuna parte. In nessuna città dove io andassi, no, no, non c'era. Ovviamente dopo che l'ho comprato è comparso ovunque, ma vabbè. Questo romanzo credo che sia stato tradotto in italiano, sì, da, anche qui ho un nome che, vabbè, Liviana Avirovich, ve lo scrivo anche sotto. È da un romanzo appunto recente, credo che sia del 2007, 12, non lo so. Comunque, in italiano è arrivato nel 2015, perciò sì, per noi è nuovo. e è un romanzo appunto documentario, come da sottotitolo. Perché? Perché parte da una premessa, che è quella di una signora anziana, Aja Tedeschi, che abita a Gorizia e che noi incontriamo, seduta nel suo salotto, con a suo fianco una cesta piena di ricordi, di ritagli di giornale, foto, lettere, varie cose, che lei va piano piano a riguardare, mentre aspetta. Lei aspetta l'arrivo di suo figlio, che lei non vede da, letteralmente, da una vita. Questo figlio, che lei ha avuto durante la Seconda Guerra Mondiale, da un ufficiale dell'SS, mentre questi era a Trieste. Questo bambino le viene rapito, essenzialmente, dai tedeschi e lei, per una vita, nonostante le ricerche, nonostante le segnalazioni della Croce Rossa Internazionale, lei non riesce mai a trovare. Questo è, diciamo, l'incipit, la premessa. Tutto il resto è la storia di Aya, quindi c'è l'albero genealogico all'inizio, la storia della sua famiglia, che, come potete capire, aveva origini ebree, ma anche la storia di quella zona dell'Italia, del nord-est, durante la Seconda Guerra Mondiale, e la storia di tutto ciò che i i tedeschi e gli italiani hanno fatto e che molto spesso noi non conosciamo fino in fondo. Tutti i treni che partivano dall'Italia, il campo di concentramento all'ex di Srisira di San Sabba vicino a Trieste, tutte le uccisioni, tutte le cose più truci che potete immaginare, qua vengono raccontate e appunto per questo documentario, nel senso che sì, è un romanzo, però vi fa entrare seriamente nella storia quella vera. c'è un punto in cui lei elenca quasi tutti, no, sì, tutti, quelli che si sanno, gli ebrei uccisi in Italia e deportati all'Italia, quindi c'è questa, veramente c'è una lista di 9000 nomi, ci sono fotografie, ci sono finte interviste in un certo senso, ci sono informazioni su vari ufficiali dell'SS che facevano cose in Italia e all'estero ed è un romanzo di nuovo dove effettivamente anche la citazione che c'è in copertina dietro ogni nome si nasconde una storia, è vero, va proprio ad esplorare questo, dietro ogni persona c'è una storia dietro e la storia a volte è qualcosa che le persone vogliono nascondere o che le persone addirittura non hanno idea di cosa sia. È veramente un romanzo bellissimo, vi farà stare in mani nel senso che certe cose che vengono raccontate anche se le abbiamo studiate a scuola, vederle raccontate così in dettaglio fa tutto un altro effetto secondo me. altri aspetti dello sterminio degli ebrei da parte dei nazisti li conoscevo ma in modo un po' più superficiale quindi non che ci fosse bisogno di aprire gli occhi su una realtà come quella che è stata il nazismo però non so come dire ma è sconvolgente perché stiamo parlando di una generazione di persone che stanno scomparendo perché sono i nostri nonni e che però portano dietro di sé appunto una storia come questa e fa riflettere appunto sul valore che hanno le storie di ognuno di noi le storie proprio individuali perché vanno poi a formare quella che è la storia con la S maiuscola ed è non lo so è proprio è un romanzo che mi ha lasciata senza parole e che veramente vi consiglio di recuperare in ogni caso perché vi consiglio di recuperare a tutti i costi perché non lo so è è anche un monitor in un certo senso su quello che può succedere se se si fa finta di non vedere cosa sta succedendo cosa sta cominciando a succedere voluto a succedere giusto due volte però insomma sì è uno spaccato sulla storia d'Italia dell'Europa è bellissimo quindi se non si è capito leggete questo romanzo e ovviamente se l'avete già letto o se l'avete letto qualsiasi dei libri di cui ho parlato fatemi sapere nei commenti così possiamo discutere di più insieme e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao